Lo scopo finale dei corsi è quello di rendere possibile al malato di gestire la propria malattia, di imparare a conviverci. Sono malattie infiammatorie ma anche degenerative e caratterizzate comunque dal dolore cronico, l'educazione è al primo posto. Un ciclo di incontri per imparare a conoscere e gestire le malattie reumatiche. Prenderanno il via il prossimo 5 marzo nella biblioteca dell'ospedale San Donato di Arezzo i corsi di educazione terapeutica. La cui finalità è rendere più esperto il malato reumatico della propria malattia, dei percorsi anche dei canali al fine di gestire al meglio le problematiche ad esse correlate in un rapporto, in un'ottica del rapporto medico-paziente basato non soltanto sulla fiducia ma sulla corretta comunicazione. Ricordo una legge del 2017 in cui si dice proprio che il tempo di comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura. Cinque in tutte le lezioni che vedranno tra i liratori, medici e personale sanitario dell'ospedale Aaretino rivolta ai pazienti affetti da patologie reumatiche che in Italia colpiscono oltre 5 milioni di persone. Oltre le relazioni, oltre i specialisti in campo reumatologico interverranno lo psicologo, il fisiatra, il fisioterapista e le figure importanti nell'approccio multidisciplinare del paziente reumatico.